Un tempo per vivere nel deserto e ascoltare la voce di Gesù, correggendo i difetti che tutti noi abbiamo e facendo fronte alle tentazioni che ogni giorno ci attaccano. Con queste parole Papa Francesco, domenica all'Angelus, ha definito la settimana degli esercizi spirituali, inaugurati la prima domenica di Quaresima presso la Casa Divin Maestro di Ariccia. Alla ritiro prendono parte il Pontefice e i membri della Curia Romana, seguendo le meditazioni di Padre Bruno Secondin dell'Ordine dei Carmelitani sul tema Servitori e Profeti del Dio Vivente. Gli esercizi si concluderanno la mattina del 27 febbraio.